Il 15 e 16 maggio anche i montagnanesi andranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco. I candidati Loredana Borghesan, Roberta Di Salvatore ed Alessandro Guccioni hanno risposto a 5 domande relative alle problematiche della città murata. Quali politiche metterete in campo per salvaguardare il patrimonio storico di Montagnana? Nelle fattispecie la cortina delle mura nord che pian piano si sta sgretolando. Questa è una problematica grave, deve essere una delle prime cose da salvaguardare in città. È ovvio che si tratta di interventi che se fatti a dovere con tutti i crismi della tutela del patrimonio storico-culturale ovviamente sono dispendiosi, costano soldi ma vanno fatti perché se pensiamo appunto che il turismo e la ricchezza artistica di Montagnana deve essere il perno forse di un rilancio economico della città è ovvio che questa cosa vada curata per prima. Quello che possiamo dire ovviamente è che sicuramente valorizzare la città con le sue ricchezze significa anche cercare di ottenere fondi per quello che riguarda la disponibilità europea, regionale, provinciale e magari anche incentivando quelle che possono essere delle iniziative culturali fatte in città per la città ma atte anche a recuperare ulteriori fondi e coinvolgendo magari quelle che sono delle potenzialità, delle capacità professionali già presenti in città. Quindi creare anche in questo caso un circuito virtuoso per la cittadinanza e con la cittadinanza. Le mura, sappiamo, sono di proprietà di Demanio e hanno poi il controllo della sovraintendenza pertanto passano attraverso mani sovracomunali. Detto questo però l'impegno assolutamente è di andare alla ricerca di contributi europei per il restauro di queste mura che effettivamente hanno bisogno proprio nella parte nord. In questo momento potrebbe essere anche un'iniziativa magari legata ad altre città storiche, città murate dove andare a individuare sui fondi FAS che in questo momento si stanno aprendo la possibilità per un recupero di questo. Abbiamo già in essere una collaborazione per l'acquisizione del castello di Portaleniago in modo tale che questo possa rimanere comunque all'interno dell'ente locale di Montagnana. Ma quello che è importante appunto è nella generalità del tutto pensare a un governo forte per il comune di Montagnana. Ecco qui come sapete come amministrazione comunale non abbiamo possibilità di interventi diretti perché le mura sono di proprietà del Demanio. Però credo che come amministrazione comunale dovremmo farci parte attiva, propulsiva e anche di tra virgolette spinta forte affinché il Demanio ma anche a livello di governo centrale si creino delle risorse e catalizzino qui dei fabbisogni per andare ad intervenire in un monumento storico come le mura di Montagnana che sono credo una delle maggiori e principali attrattive storiche di tutto il territorio nazionale. Dovremmo essere parte attiva con le autorità competenti perché si venga ad investire per il mantenimento delle mura di Montagnana.